Dove c'è il civico, il centro civico, era la stazione, proprio la stazione vecchia, adesso lì hanno buttato il vecchio e hanno fatto il centro civico, e lì era la stazione. Dopo l'hanno preso via, hanno messo le corriere, hanno messo le corriere, e noi dicevano, adesso con il corriere chissà, sembrava girare, e poi invece non succedeva niente, perché come adesso...